Con grande piacere, non solo lui ma Marcello Donatelli che è il secondo, insomma abbiamo vissuto delle bellissime annate nonostante qualche risultato magari negativo che c'è stato ma è anche in difficoltà che poi sicilmente ha anche il rapporto quindi un bellissimo ricordo, sarà un piacere ovviamente rivedere delle facce amiche insomma quindi una bella emozione sicuramente, chiaramente nei 90 minuti sarà come in altre partite dove ognuno vorrà vincere ci mancherebbe altro però prima e dopo sarà sicuramente una bella emozione Beh assolutamente sì, rientra tra quei allenatori che hanno fatto parte del mio passato dove ho potuto vedere prima da giocatore dopo da dietro le quinte, noi andavamo d'accordo perché avevamo le stesse idee di calcio per quello la cosa che ci accomunava, ci faceva stare insieme era appunto quella quindi l'essersi tra virgolette divisi non ha nascosto la mia idea a entrambi piace giocare quindi credo che sia quella l'idea che ci accomuna più di tutte Il discorso che ho sempre fatto di bollicini che parlavamo prima, bisogna fare quello che serve mi piace giocare, voglio una squadra che giochi a calcio eccetera non mi piace regalare gol quindi non devo costruire per forza a tre metri dalla porta per far vedere che voglio giocare a calcio quindi si può giocare a 50 metri dalla porta calciando lungo e poi giocare quindi per quello che mi piace quando è possibile adattarmi all'avversario di virgolette perché comunque si può fare male all'avversario anche adattandosi a loro pur mantenendo i due principi di gioco, sono quelli che vogliamo sempre mantenere in campo Perugia è una squadra forte che gioca bene, viene da due risultati negativi ma si sa i campionati di calcio vivono anche di situazioni negative però è una squadra che dati alla mano gioca molto bene ha un ottimo palleggio, è la seconda e terza squadra del campionato per caratteristiche appunto di palleggio è chiaro che ha delle difficoltà in questo momento, le sconfitte hanno evidenziato delle problematiche si sa che poi quando si costruiscono squadre per vincere e si va giù leggermente in classifica si va incontro a problemi quelli che credo che stia affrontando in questo momento Non ho fatto le tabelle da virgolette e non le faccio mai è chiaro che abbiamo innalato delle situazioni positive in termini di risultati quindi vorremmo continuare a farne, non si potrà vincere sempre, io mi auguro di poterlo fare però è chiaro che la famosa continuità farà sì che la classifica sia più o meno di un certo livello quindi tabelle no però c'è la voglia di fare più punti possibili